Contratti di affitto falsi per regolarizzare decine di extracomunitari che in questo modo potevano essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Ispica. L'anomalia di numerose richieste al municipio espicese ha messo in allarme l'ufficio anagrafe che ha inviato una segnalazione ai carabinieri di Ispica. A conclusione delle indagini condotte dai militari dell'arma della stazione di Ispica sono scatati due arresti e tre provvedimenti di polizia giudiziaria con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a scopo di lucro. L'operazione, chiamata Affittopoli, ha portato all'arresto di Paolo Iozzia, 43 anni, e di Giorgio Caccamo, 50 anni, entrambi di Ispica. Sono stati inoltre sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due ispicesi di 57 e 51 anni e un tunisino di 53 anni. erano Iozzia e Caccamo, mentre i contatti con gli extracomunitari venivano presi dal tunisino. I carabinieri ritengono che tra il dicembre 2014 e l'agosto del 2017 siano stati stipulati 30 contratti fittizi e altrettanti stranieri regolarizzati che, grazie ai contratti, ottenevano la residenza a Ispica e presentavano domanda alla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. Le abitazioni affittate erano tutte a Marina Marza, tranne una nel centro di Ispica. Le indagini hanno però accertato che le case della Marza erano disabitate, in molti casi senza infissi, e mancavano degli allacciamenti per luce e acqua. Il particolare, che ha fatto insospettire di più, è stato quello riguardante l'anomalia relativa alla circostanza che in una casa di pochi metri quadrati risultavano residenti una decina di persone. Per stipulare i finti contratti, l'organizzazione chiedeva un compenso che variava dai 300 ai 500 euro, a seconda delle possibilità economiche degli stranieri, principalmente del Nord Africa, e impiegati nella raccolta di frutta e ortaggi nelle campagne Iblev. Il guadagno illecito sarebbe stato di circa 10.000 euro. Noi sottolineiamo in questo caso, come in altri, che la pubblica amministrazione funziona quando collabora. Quando un dirigente comunale, in questo caso quello dell'ufficio anagrafe di Ispica, ci dà il là per un'attività investigativa, ci suggerisce che qualcosa non sta andando nel funzionamento dell'amministrazione, l'attività investigativa può partire e può condursi con la collaborazione di altri organi dello Stato.